La Polizia Penitenziaria gioca sempre un ruolo attivo nella conduzione del carcere e nel fronteggiare quelle che possono essere eventuali problematiche. Un carcere avanti nel tempo, al passo con il tempo, è un carcere aperto anche al territorio? Sì, questo è un preciso impegno di aprire l'Istituto Penitenziario al territorio e alle associazioni di volontariato. E grazie a questa sinergia con le migliori istituzioni del territorio, riusciamo a completare quello che è un'offerta rieducativa nei confronti della popolazione detenuta. Il messaggio che lancierei alla cittadinanza è quello di avere maggiore considerazione per la Polizia Penitenziaria e in genere per tutti coloro che lavorano nelle carcere, che a volte sembrano un po' dimenticati. Che cos'è oggi il carcere per il detenuto? Allora, il carcere per il detenuto deve essere interpretato come un momento di riscatto, un momento perché l'amministrazione penitenziaria dà loro delle opportunità, certo? Sempre è entro i limiti delle possibilità che abbiamo e il detenuto deve essere bravo a sapere approfittare di tutta questa opportunità. Quando parlo di opportunità, chiaramente mi riferisco ai corsi di formazione, alle scuole, eccetera. Grazie. 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 Grazie.